Ho visto parecchi tappeti, c'erano elettrodomestici, qualche bicicletta, scarpe, cose che vengono tenute di solito in una cantina o in una taverna. Quello che resta dopo giorni di pioggia, cumuli di rifiuti accatastati in punti di raccolta, legno su pellettili, elettrodomestici, tanti, tanti pneumatici e poi centinaia di ricordi tra giochi di infanzia, attrezzi da lavoro e da sport. Sono 700 le tonnellate di materiale raccolto dagli operatori di Contalina in poche settimane. Un lavoro enorme per garantire la pulizia e la salubrità degli ambienti, ottenuto solo aumentando i turni di lavoro. Ci siamo dovuti, come ho detto, ampliare i tonnelli di lavoro. Il materiale, essendo bagnato, ci ha creato anche alcune difficoltà durante la fase di lavorazione, però ampliando le ore, diminuendo la capacità produttiva oraria, siamo arrivati a un risultato comunque positivo. Se mediamente il centro gestisce 140 tonnellate di ingombranti a settimana, l'emergenza maltempo ha comportato un aumento del 140%, gestito anche con l'apertura straordinaria dei centri. Apertura straordinaria dei ecocentri, 20 mezzi che hanno girato continuamente sul territorio, 80 persone che seguivano il tutto, un'organizzazione che è stata molto valida, che è riuscita a rispondere immediatamente alle esigenze del territorio. La rimozione dei rifiuti e la pulizia delle strade in tempi record è stata possibile anche grazie alla creazione di un'unità di crisi per la gestione dell'emergenza e alla collaborazione dei comuni, delle cooperative e della protezione civile. Il favore di una società dei comuni è proprio questo, che la società si attiva immediatamente sulle richieste di aiuto e poi con i comuni si coordina. Asolo, Castelfranco, Riese, Pio Decimo e i comuni in cui si è lavorato di più. Ferro, legno e metallo selezionati e messi da parte, il 15% pronto a riuso, il resto 85% è rifiuto ingombrante destinato allo smaltimento.